ciao sono florian gross rubaccher guida alpina e sciistica certificata offriamo escursioni di arrampicata e settimane nelle dolomiti sei principiante esperto o sogni da tempo una classica delle dolomiti come la gym grande o il sasso lungo allora sei nel posto giusto ti ho incuriosito quindi visita il nostro sito web www.dolomagikit e trova l'offerta giusta per te